Tant'è dare una mano a chi proprio non ce la fa e non riesce neanche... Vi faccio vedere di che cosa siamo capaci a Napoli. Siamo a via Santa Chiara C'è chi può mettere e se hai bisogno puoi prendere. Lo voglio bene Sì, io voglio essere con voi anche con voi, ma perché di l'unico, non possiamo farlo. C'è un nuovo virus che sta avendo. C'è perché tutti hanno i maschi che hanno i maschi, e hanno bisogno di rinforzare di persone. Sì, io voglio bene, ma non si trovi. Sì, dovrebbe essere felice di vedere me. Happy birthday dear Adeline Happy birthday to you I'm still here, I'll tell you like a bad penny There's no getting rid of me And I hope you're all keeping well and doing what you're told Keep to the rules and youse will all be fine It'll all pass Bye bye for now, love you all and think about youse a lot